Le forti raffiche di vento del fine settimana hanno provocato non pochi problemi anche sul territorio terramano. Disagi soprattutto la circolazione provocati dagli alberi abbattuti sulle strade, scoperchiati tetti, insegni e lampioni divelti dalle forti raffiche di vento che hanno superato i 120 km orari. L'area più colpita nella giornata di ieri è stata quella tra Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Morrodoro e zone limitrofe. La caduta di alberi su strade comunali, provinciali e statali ha determinato provvisoriamente la chiusura al traffico, veicolari in attesa che fossero completate le operazioni di taglio e rimozione degli stessi. In particolare il centro operativo autostradale di Pescara ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Nereto che con l'ausilio dell'autogru del comando di Teramo sono stati chiamati a rimuovere un albero spezzato che ha ostruito parte della carreggiata sud della 14, a circa 4 km dall'uscita di Mociano Sant'Angelo, ingente anche il lavoro portato avanti dalle squadre della provincia di Teramo. Purtroppo è un anno che avversa le strade provinciali, nei primi sei mesi di questo 2023 ci hanno visto correre rispetto a quelli che sono stati danni da pioggia, adesso è il vento, tantissimi gli alberi caduti, gli interventi fatti in maniera acelera e pronta dalla provincia. Siamo stati attivi H24 grazie al numero verde e grazie alle segnalazioni fatte dai cittadini. Non abbiamo perso un minuto per raggiungere le strade che avevano delle criticità e sia che hanno presentato delle rotture degli alberi caduti sulla sede stradale e sia delle possibili eventuali rotture che abbiamo prontamente eliminato per evitare e quindi prevenire un possibile danno agli automobilisti. Per prevenire il ripetersi di queste problematiche il presidente della provincia di Teramo, D'Angelo, ha annunciato un'importante opera di manutenzione sul verde. Il vento questa volta, seppur forte, ha risparmiato le zone montane. Su queste aree, le aree interne ma non solo, anche sulle aree collinari, stiamo preparando un massiccio taglio di alberi. Gli agronomi sono al lavoro per fare un'analisi qualitativa degli alberi qualora ci fossero delle specie protette. Contiamo di partire per l'inverno massimo primavera un massiccio taglio di piante. Questo servirà sia a prevenire le rotture dei fusti dell'albero durante i periodi di forte vento e sia durante i periodi di innevamento le classiche rotture dei rame e degli alberi che occludono la strada e rendono difficile il lavoro dei mezzi spalaneve.